Alla Pinacoteca Comunale di Città di Castello inaugurate tre nuove sale, Nuvolo, Bruno Bartoccini, Collezionismo Tifernate, Pistoletto, Dottori e gli altri dell'ascito pillito. Il rafforza è un connubio che caratterizza Città di Castello e il connubio è appunto quello tra il rinascimento e la contemporaneità, in particolare dopo i festeggiamenti del Cinque Centenari di Signorelli l'amministrazione comunale ha deciso appunto di iniziare a valorizzare quelle che sono intanto le raccolte pubbliche sul contemporaneo e l'operazione ha visto appunto riallestire alcune sale e allargando di fatto i perimetri visitabili della Pinacoteca, in particolare la sala dove siamo adesso è la sala dedicata alle sculture di Bruno Bartoccini, uno scultore appunto locale ma con come dire un linguaggio sicuramente accademico e molto comunicativo, visibile tra l'altro anche dall'esterno e sarà visibile anche in notturna. L'abbiamo concepito come se fosse una narrazione quindi veramente una sorta di danza unendo ad una come dire ad una scena appunto coreutica anche una presenza campestre, voi vedete appunto degli animaletti che girano un po' qua e là sulla scena. Le altre stanze sono appunto il riallestimento della sala Nuvolo e a seguito appunto della donazione di alcune opere dell'archivio Nuvolo è stata come dire valorizzata al meglio questa donazione cercando appunto di dare maggiore spazio, maggior risalto alle opere che vanno dai anni 50 fino appunto ai primi anni 2000 che poi appunto sono gli anni in cui l'artista è scomparso. L'ultima parte in realtà è un po' il cuore pulsante del progetto, della event room, una stanza che vuole essere una sede ideale per piccoli eventi contemporanei che valorizzano sia situazioni locali ma anche situazioni più nazionali offrendo sempre uno spunto di riflessione innovativo su quello che è il dialogo tra il rinascimento e la contemporaneità.